Nel giorno in cui l'Italia è scossa dall'ennesimo femminicidio, la vittima, una donna di 66 anni, uccisa a salso maggiore dal marito, sono stati resi noti i primi dettagli dell'autopsia effettuata sul corpo di Michelle Fiersdown, ammazzata con nove coltellate e non con sette, come ipotizzato in un primo momento. La donna è stata trovata morta nella sua abitazione, nelle campagne di Casoli, la mattina del primo novembre, ma l'omicidio, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Lanciano, si sarebbe consumato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre. Lei, stando ai tagli che sarebbero stati trovati su una mano e su un avambraccio, avrebbe cercato di difendersi dal suo assassino che, stando agli elementi emersi dall'autopsia, l'avrebbe colpita a letto, di spalle e di fronte. L'esame irripetibile, condotto dal medico legale Pietro Falco, incaricato dalla procura di Lanciano, è durato tre ore. Del femminicidio della donna britannica è accusato il convivente, Michael Whitbread, 74 anni, attualmente in custodia nel carcere di Londra. L'uomo deve rispondere di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza.